Senz'altro, alla base di tutto ci devono essere gli investimenti, fondamentali per il raggiungimento di qualsiasi obiettivo. Per far questo abbiamo bisogno di certezza, certezza nella possibilità di realizzarli questi investimenti, quindi di realizzarli in tempi brevi e con certezza del sistema normativo. Quello che noi ancora oggi purtroppo soffriamo è l'incertezza autorizzativa e la lungaggine degli iter, spesso troppo complicati, che ci impediscono e di fatto sono il vero ostacolo al raggiungimento degli obiettivi che ci stiamo dando.